Una meravigliosa gara di Melbourne con la vittoria della Ferrari con Carlos Sainz, la Formula 1 torna sulla terra nel GP di Suzuka, infatti torniamo nei valori visti sia in Bahrain se in Arabia Saudita, doppietta Red Bull nel circuito in tasare di Suzuka in questo inaito Gran Premio del Giappone che si è corso ad aprile dopo anni che si è corso come prima trasferta ex-europea in quel di settembre. Una gara che è stata in realtà molto più strategica del previsto con pochi sorpassi in pista ma con appunto la gara decisa di fatto nei box. Qualche episodio in realtà da segnalare c'è ma alla fine non cambiano i discorsi. La Red Bull domina in lungo e in largo e appunto confermiamo il fatto che Melbourne è stata un'eccezione figlia un po' una volta per quanto riguarda il setup della Red Bull che non si è mai adattato il più delle volte al circuito australiano un po' anche per i problemi tecnici che hanno appunto afflitto la Red Bull di Max Verstappen. Ma partiamo per una volta dall'inizio in quanto al Giro 1 subito un grande episodio di interesse ovvero la bandiera rossa che è stata causata dall'incidente tra Alexander Albon e Daniel Ricciardo. Siamo appunto nelle prime battute di questa gara del Giappone di fatto in terza curva c'è appunto uno Snake di piloti che si dipana verso appunto il primo settore di Suzuka nella curva 3 quella che va in salita per immettersi nello Snake ad alta velocità. Ricciardo allarga come se appunto dovesse impostare la curva come se non ci fosse nessuno peccato che in esterna ci fosse il tailandese della Williams Alexander Albon che ha provato una manovra va detto un po' azzardata. Il duo di piloti va al contatto e appunto entrambi finiscono a muro con Albon che di fatto ha la peggio con un contatto contro le barriere di protezione. C'è una bandiera rossa che appunto fermerà la gara per 40 minuti dopo di che si ripartirà ma alla fine il copione non cambia. Le due Red Bull che partivano evidentemente in prima e in seconda posizione fanno il passo dietro una solita lotta tra McLaren e Ferrari con alla fine una Ferrari che ne risulterà vincitrice. E' stata una ottima strategia quella della Ferrari che con le Clerc si è diciamo concentrata su una sosta sola mentre Sainz ne ha fatte due un po' come tutti gli altri piloti. Alla fine la Ferrari completerà una sorta di doppietta ma in terza e in quarta posizione con Carlos Sainz che in questo frame lo vediamo sorpassare le Clerc a sei giri dalla fine per guadagnarsi il podio. Sainz ricordiamo partiva in quarta posizione e ha finito terzo. Le Clerc invece ha fatto un'ottima gara partendo ottavo e appunto terminando in quarta posizione ma con una sosta in meno. Quindi gara di Le Clerc senza dubbio nettamente meritevole per dire tutto questo che nel frattempo la Red Bull ha fatto il bello e il cattivo tempo e appunto ha dominato esattamente come in Bahrain e in Arabia Saudita. Ed esattamente come in Bahrain e in Arabia Saudita abbiamo una doppietta con Max Verstappen che vince poco inquadrato dalle telecamere e per l'ennesima volta in stagione e in carriera suona Helt Wilhelmus, l'inno nazionale olandese. In seconda posizione appunto Sergio Perez ha 10 secondi di ritardo e a 7 secondi di ritardo da Sergio Perez abbiamo Carlos Sainz per la terza e ultima posizione che completa il podio. È stata una Red Bull decisamente poco inquadrata, ha provato qualcuno evidentemente a mettersi in mezzo soprattutto con Perz, Verstappen in questo caso era nettamente imprendibile. Ci ha provato prima Norris con una buona strategia nel primo stint, poi ci ha provato Le Clerc con una strategia diversa da tutti gli altri ma alla fine questo Red Bull in questa pista e nella maggioranza delle piste del mondiale è evidentemente la macchina ancora una volta da battere. Ripeto Melbourne è stata una piacevole eccezione ma appunto la realtà vuole che la Red Bull vada a vincere e dominare in lungo e in largo. La classifica di fatto lo recita ampiamente perché appunto Verstappen con la terza vittoria in quattro gare già a 77 punti ha di fatto più 13 su Sergio Perez che appunto anche lui complice una gara di Melbourne poco felice per il stand della Red Bull finita solo in quinta posizione per le altre gare ha fatto solo secondi posti mentre Verstappen solo primi appunto fa diciamo eccezione il ritiro dell'Australia. Tutte le altre posizioni di fatto vanno un po' a rispecchiare quelli che sono i valori in campo una Red Bull dominante in lungo e in largo una Ferrari glamorosa seconda forza del campionato e in maniera più che meritevole appena sotto la Ferrari abbiamo la McLaren che se la gioca comunque per le posizioni da podio quando si può o comunque quando va bene fa top 5 con costanza. Dietro la Mercedes poi c'è qualche inserimento qui e lì in zona punti abbiamo sempre la Stone Martin di Fernando Alonso e poi per le zone basse della zona punti quindi di fatto la chiusura della top 10 a volte abbiamo la Haas a volte abbiamo l'Alfa Tauri abbiamo evidentemente piloti che nel midfield se la possono giocare evidentemente comunque è un campionato già bello che è indirizzato. Va detto una volta per tutte che la vittoria molto interessante di Carlos Sainz e la doppietta Ferrari non ha per niente riaperto il mondiale e appunto a Suzuki abbiamo visto la vera ragione il mondiale era chiuso anche nonostante la vittoria della Ferrari in quel di Melbourne e lo sarà ampiamente per tutto il 2024 sappiamo che questo mondiale sarà appunto di transizione. Verstappen quindi vince la terza di quattro gare e appunto si conferma il leader del campionato per un mondiale che va detto è ampiamente indirizzato verso l'olandese in seconda posizione Sergio Perez che comunque ha avuto un ottimo inizio di stagione riscattando evidentemente il finale della scorsa dove era veramente irriconoscibile. Terzo è Carlos Sainz che ha fatto una grandissima gara e evidentemente ha fugato per quanto mi riguarda i dubbi che mi ero posto nel momento in cui avevo detto che Hamilton sarebbe andato in Ferrari nell'analisi del video post trattativa. E la domanda conseguenziale era come correrà Carlos Sainz in questa sezione? Ebbene Carlos Sainz correrà in maniera incredibile a tuono perché solo podi tranne in Arabia Saudita dove di fatto non ha corso perché ero prato di appendicite è il miglior Carlos Sainz di sempre con appunto due podi e una vittoria evidentemente in quattro gare ovviamente disputate in realtà ne ha corso solo tre è veramente un Sainz sul pezzo è veramente sontuoso. Quarto è Charles Leclerc in questa gara di Giappone che evidentemente ha fatto una strategia della Madonna e per questo motivo assegno a lui il driver of the day perché evidentemente partire ottavo è vero come una macchina molto importante come la Ferrari di quest'anno che è vero che prende sempre gli onghi della Red Bull ma almeno di mezza quantomeno lo svantaggio su tutte le piste che affronta in questo inizio di mondiale evidentemente fa sì che si possano azzardare delle strategie diverse. Leclerc ha fatto una sosta sola rispetto agli altri che evidentemente ne ha fatte due e ha guadagnato quattro posizioni rispetto allo start quindi per questa grande rimonte in una gara che è stata puramente di strategia perché dei sorpassi in pista se ne sono visti veramente pochi tranne magari appunto le Alpine che venivano svanciate da chiunque anche dalla Williams del Sergente prima che il Sergente andasse letteralmente per le terre e anche evidentemente per casi di disparità di strategia per esempio tutti i sorpassi subiti dalla Mercedes evidentemente fare questa quarta posizione è qualcosa di straordinario in questo contesto quindi per me il monegasco Charles Leclerc è driver of the day senza se e senza ma segno appunto che questa Ferrari è sul pezzo della competitiva per il podio per quantomeno tutte le gare di questo campionato del mondo. Quinto è Lando Norris che nel primo stint aveva addirittura azzardato un sogno di andare a podio e per il momento c'era anche riuscito poi per una strategia secondo me sbagliata in confronto di Leclerc Norris ha perso una marea di tempo e alla fine addirittura è stato superato anche da Sainz quando Sainz gli era entrato ampiamente dietro. Sainz era veramente un uomo in stato di grazia in questa gara di Suzuka ma Norris secondo me può recriminare qualcosa per la stagia sbagliata Norris e Leclerc di fatto sono entrati insieme ma appunto era meglio che l'inglese rientrasse dopo Leclerc facendo il contrario del monegasco non è stato così comunque una mezza occasione persa per confermarsi a podio rispetto alla gara di Australia per appunto il landone nazionale. In sesta posizione abbiamo Fernando Alonso che comunque tira da solo la carretta dell'Aston Martin che di fatto ha comunque sempre solo un pilota solo cioè appunto lo spagnolo 42N, sesta posizione per Alonso che più di così con questa Stone Martin francamente non poteva fare, settimo è George Russell con una Mercedes che in confronto agli altri tre top team sembrava praticamente impotente e ha subito sorpassi a destra e a manca complice anche una strategia veramente orrenda segnalata dallo stesso Lewis Hamilton che ha fatto una gara veramente orrenda ottavo Oscar Piastri che comunque si conferma nella top 8 di questo campionato del mondo e appunto mai peggiorato in questa zona il pilota australiano che sta comunque diventando molto più consistente rispetto al finale dello scorso anno dove era parecchio incostante non a posizione per Lewis Hamilton che appunto non ha pagato con la strategia delle gomme dure dove evidentemente questa Mercedes ha fatto veramente fatica apro parentesi in questa gara la Mercedes secondo me è la delusione del giorno senza se senza ma perché comunque un team che ha praticamente spesso fatto bene a Suzuka vinceva quando dominava e faceva anche podio quando evidentemente non vinceva vederla comunque ai margini della zona punti o comunque nelle posizioni basse della top 10 francamente fa un po' spavento ma appunto la Mercedes questo giro non era un fattore e appunto si è vista come la scuderia inglese è stata veramente impotente chiude la top 10 Yuki Tsunoda che si conferma ancora una volta a punti Tsunoda ce lo si aspetta sempre che vada bene in Giappone ma qui ha fatto veramente una grandissima gara Yuki Tsunoda va riconosciuto a me Tsunoda francamente non piace è un pilota che non vorrei vedere in Formula 1 ma quando fa bene bisogna riconoscerlo ha fatto una grandissima partenza partendo dal fondo aggredendo il giusto nella prima e seconda ripartenza ha fatto un'ottima strategia ha portato a caso un punto fondamentale per l'Alfa Tauri che appunto come evidentemente l'Aston Martin corre con un pilota solo e il pilota solo è Yuki Tsunoda che mi sta praticamente smentendo Ricciardo è in colore e conferma le mie impressioni che non dovrebbe stare in Formula 1 tant'è vero che pare che se dovesse fare male Ricciardo venga cambiato con Liam Lawson e meritatamente direi Yuki Tsunoda invece fa una grande rimonta a grande gara per il pilota del team Vicarb e decima posizione seconda gara punti consecutiva probabilmente in questa fase storica il miglior Tsunoda di sempre tutti gli altri piloti sono after the music e sono evidentemente delle delusioni ma evidentemente un po' ce lo si poteva aspettare la Haas si conferma come sesta forza in campo Stroll delude ed è giusto così tutte le altre macchine sono praticamente impotenti perché parliamo delle due Sauber delle due Williams soprattutto delle due Alpine che sono veramente dei carretti ed è abbastanza inutile inferire peraltro appunto il fatto che questa gara è stata dominata da Verstappen lo indica allo stesso pensamento di Tsunoda perché è vero che il giapponese finisce decimo ma è stato addirittura doppiato da Max Verstappen segna appunto che l'olandese in questa gara era veramente fuori dalla grazia di Dio e lo sarà probabilmente per tutte le gare di questo mondiale il mondiale mondiale che ripartirà tra due settimane in Cina che dovrebbe evidentemente corrersi dopo cinque anni di stop causa appunto politica covid free del governo cinese il circuito di Shanghai comunque è una sorta di mezzo inedito un po' per tutti per di fatto avvicinarsi alle gare in Europa ci sarà poi Miami nel mezzo e poi si tornerà a Imola di fatto a maggio questo comunque il Racing Podcast il continuo della gara del Giappone in una gara dominata ancora una volta dalla Red Bull per un mondiale che ovviamente è indirizzato la prossima settimana non ci saranno Racing Podcast perché sarò a Misano a vedere la Formula E comunque i video sul canale anche a tema Motorsport non mancheranno quindi rimetti sempre sintonizzati su questo canale per nuovi aggiornamenti e contenuti il saluto da parte di Matthew Torgard ci vediamo al prossimo video